Per prima la Mussofiri è strano, io mi raccomando a subarvi i creaturi, che non si parla, 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 ma in Sardegna, in Sardegna, ma in spiaggia, ma in questo, non si parla, Mussofiri è strano, Mussofiri è strano, ma la piazza è spaventata, Furr, si parla in sadoogli e non si parla. Non si parla in sadoogli e non si parla in sadoogli, non si parla in sadoogli e non si parla in sadoogli. Quieto! non lo sai la buona solista no quindi c'è una cosa non ci resisterebbe non resisterebbe no non ci resisterebbe se lo facciamo anche un colpo ma abbiamo fatto i panni e poi che sta abbandonata e poi che l'ha abbandonata non c'è più che sta non c'è più che sta no non fai niente calma sembri ferita vabbè 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 oh lei ma è lui buono non c'è fino a me sta qui non c'è fino a me sta qui ed è finita nate è finita nate nate la mogliettina sta salendo? fino a domani a mattina purtroppo non facciamo niente la mogliettina è sola ora ci siamo perché fa freddo non c'è nessuno è rimasto solo vabbè i peci presi stanno soli fino a domani a mattina ma siccome si è fatta se ne sono andate 4 o 5 persone che stanno non va bene non c'è nessuno 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 ma io dico la verità questo è un problema questo è un problema non c'è nessuno e poi la cassa e poi la portella e io ho creato se sta fuoco vediamo che lo gelato un po' di pallino e ti ha un bacio di latte ci sta tutto questo e non va bene non va bene invece voglio essere buoni la serata è finita e ci vediamo alla prossima Ciao